Grazie alla collaborazione con Coop Consumatori Nord-Est, il Comune di Pordenone ha potuto avviare in via sperimentale il progetto Giovani Attivi, legato ai vantaggi per la comunità, campagna con la quale i soci Coop di Pordenone hanno scelto di devolvere i punti acquisiti durante l'anno ad iniziative di pubblica utilità, a gestire il progetto, in stretta connessione con Coop Consumatori, le politiche giovanili comunali, che hanno trovato nell'Istituto Mattiussi di Pordenone un partner privilegiato per la fase di avvio sperimentale di questa iniziativa, l'assessore comunale alla cultura Claudio Cattarruzza. Oggi abbiamo concluso la prima fase del progetto Vantaggi per la comunità Giovani Attivi che il Comune di Pordenone ha realizzato insieme a Coop Consumatori Nord-Est, è un progetto che è nato dalle varie largizioni che i soci hanno effettuato con i loro buoni spese e che ha permesso di impiegare in diversi luoghi dell'amministrazione sei ragazzi, alle ore corrisposte sono stati affidati dei punteggi, a questi punteggi sono stati ovviamente affidato un compenso economico che ha permesso durante le vacanze estive a questi ragazzi di poter effettuare un'esperienza lavorativa e anche esserne retribuiti. Quindi un progetto che ci auguriamo possa proseguire anche nel futuro e che allargheremo anche ad altri ambiti, non solo a quello culturale ma anche al sociale, sempre e tutto sotto leggi delle informazioni, delle politiche giovanili del Comune di Pordenone, in collaborazione ovviamente con Coop Consumatori Nord-Est. Grazie a tutti.